Un risultato robusto quello conquistato sabato a Viviani dal Potenza contro i ragazzi di Novellino che ha visto andare in golo oltre a Bomber Caturano che ha messo a segno la sua sedicesima marcatura stagionale ben tre centrocampisti e un difensore. Dato questo che sottolinea il rinnovato atteggiamento offensivo condito anche dalle sole quattro reti subite nelle ultime sette partite. Una squadra che nel finale di questo campionato ha trovato personalità e continuità quella sempre chiesta dalla tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto e che vede oggi Leoni Rosso Blu a quota 44 punti in piena zona playoff. La preparazione del Potenza è ripresa ieri con un lavoro atletico prima e tattico dopo. Cittadino sembra essere sulla strada del recupero, lavoro differenziato per Murano, Caturano e Laribi. La necessità principale di Raffaele sembra essere quella di riportare al massimo della forma il difensore centrale Andrea Sbraga brillantemente sostituito da Rocchi nella sfida di sabato scorso. Mentre il problema muscolare di Armini potrebbe allungare i suoi tempi di recupero. La gara tra Cerignola e Potenza che trasmetteremo in diretta e in chiaro su Antenna Sud è attualmente al vaglio del GOS del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà nel pomeriggio di domani. Oggetto della discussione è la disponibilità di un numero sufficiente di tagliandi per consentire l'accesso allo Stadio Monterisi e ai tifosi ospiti. Disponibilità che attualmente sembra essere di soli 150 biglietti. La sfida tra Cerignola e Potenza sarà diretta dal signor Bordin, il fischietto di Bassano del Grappa ha già arbitrato il Potenza in questa stagione ad Avellino, partita persa 2-0 mentre non c'è nessun precedente con il Cerignola. Bordin dirigerà la partita numero 134 in carriera assistito da Dascanio e Spagnolo. Quarto uomo Ursini di Pescara.